Eccoci qua, ragazzi nel frattempo al pub ci ha venuto a trovare Calcutta! Calcutta, Calcutta! E no, è venuto qua perché questo è The Place to be, ragazzi, anche perché da cantautore a cantautore io volevo che avvenisse questo incontro fra Dino Zandegu e Edoardo Calcutta perché Zandegu è il nostro cantautore. Tu conoscevi Calcutta? Assolutamente no! Però devo dire che sembra che abbia della stoffa. Certo che c'è la stoffa! Più un kiwai che della stoffa però sì! Federico, tra l'altro devo dire che guardando Calcutta, Sorica, sembra abbronzato in pratica! È vero, è vero! No, in realtà Calcutta si abbronzerà quest'estate perché farà due concerti all'aria aperta, all'aperto, open il 21 luglio sarà lo stadio di Latina e il 6 agosto sarà l'arena di Verona e il mio sogno è che per una collaborazione venga coinvolto anche Dino Zandegu. Beh, ci lavoriamo! Ci lavoriamo! Tu vorresti suonare l'arena di Verona con Calcutta? No, io lo vorrei ingaggiare per l'ultimo dell'anno perché è sempre difficile trovare dei complessi. Dino Zandegu!